La nuova macchina di lucidatura per lastre di marmo è stata riprogettata con soluzioni tecnologiche ed estetiche all'avanguardia. È caratterizzata da una linea morbida con profili cruvilinei che risaltano la solidità della struttura portante. La struttura compatta del ponte mobile all'interno del quale sono fissate le nuove teste operatrici in fusione di ghisa con l'innovativo sistema di lubrificazione a camere stagne separate e il rinnovato sistema di traslazione laterale a quattro appoggi autoallineanti in bagno d'olio a contenimento laterale garantiscono l'equilibrio dinamico e l'aumento della velocità lineare di traslazione a regolazione elettronica. La rulliera d'ingresso ha la funzione di allineare la velocità della lastra in ingresso con quella del nastro in modo tale da permettere la scansione ottimale dal sistema di lettura profilo ad autoapprendimento che garantisce la lucidatura speculare su qualsiasi irregolarità della lastra. La trasmissione del ponte avviene tramite motoriduttori ad assi paralleli. Singolo per versioni fino a 8 gruppi lucidanti, doppio con trasmissione centrale per versioni da 10 a 20 gruppi lucidanti, con pignoni a denti inclinati e supporti aggiuntivi per assorbire i carichi generati dalla trasmissione del ponte. La maggior parte delle protezioni sono realizzate in acciaio inox e alluminio anodizzato, mentre altri componenti vengono zincati a caldo. Questo ha garanzia di una maggiore protezione e durabilità della macchina. Per garantire un buon ancoraggio delle resine contenute nelle vernici, la maggior parte dei componenti realizzati in carpenteria viene trattata con processo di sabbiatura. Per la verniciatura vengono impiegate vernici a base di resine acriliche, poliuretaniche bicomponenti. La macchina è equipaggiata di un gruppo mandrino per il lavaggio e la pulizia finale delle lastre, completamente comandato dal PLC, che viene gestito sostanzialmente come un gruppo mandrino lucidante. Su questa linea di lucidatura è stato installato un forno combinato, equipaggiato con delle speciali lampade alogene e infrarosso, che permettono il preriscaldamento e l'assigliatura delle lastre. E da altre lampade UV ad alta pressione, la combinazione di queste due lampade permette l'utilizzo di mastici bicomponenti e di monocomponenti foro iniziati. In ingresso del gruppo di finitura vengono installati ventilatori di nuova generazione ad alta efficienza e basso consumo energetico, con gruppo soffianti in alluminio, progettato per generare una lama d'aria che permette di un'asciugatura ottimale delle lastre. Sul nuovo pannello comandi è integrato un terminale grafico touchscreen 12 pollici a colori che permette la completa gestione della macchina. L'applicazione opzionale del pacchetto Technology 4.0 permette il monitoraggio e l'interazione di alcune funzioni con l'ausilio di dispositivo remoto, ad esempio da PC impostazione fissa, oppure da dispositivo mobile, quale tablet o smartphone. il risultato di questa grande lucidatura di questa lastra è il risultato di una collaborazione tra noi, azienda del Marmo, Marmi Bocchese, con Vivitec, iniziata nel 2017, dove grazie a uno studio di sviluppo e ricerca abbiamo messo a punto una macchina con delle caratteristiche tali che soddisfi realmente le nostre esigenze e soprattutto arrivi ad un prodotto finito di eccellenza. grazie a questo studio di sviluppo e ricerca siamo riusciti a realizzare una macchina molto veloce con movimenti molto fluidi, un controllo delle pressioni degli abrasivi e della lavorazione degli abrasivi sulla lastra e altri tanti elementi messi assieme a questi ingredienti che ci consentono di ottenere un prodotto finale di estrema qualità su materiali bianchi come il covelano e anche su colorati come i neri dove abbiamo una lucidatura praticamente perfetta senza utilizzo di cere e prodotti chimici quindi una lucidatura perfetta completamente naturale. Grazie a Vivitec